In Spagna continua la corsa in solitaria del Partito Popolare. Dopo le elezioni dello scorso 20 dicembre, la formazione di Mariano Rajoy non ha ancora trovato partner disponibile a partecipare al nuovo governo. Il Premier non l'ha esplicitato pubblicamente, ma i candidati più prossimi potrebbero essere i socialisti e i ciudadanos. Per il Paese sarebbe auspicabile un governo ad ampio spettro, detto creerebbe fiducia sulle questioni fondamentali, non solo all'interno del Paese, ma anche all'estero e per quello che riguarda i mercati e gli investitori. Un esecutivo di larga intese sarebbe in grado di realizzare le riforme necessarie senza imposizioni. I socialisti di Pedro Sanchez al momento non sarebbero intenzionati ad accettare i corteggiamenti del PP, anche perché contestano la posizione di Rajoy di mantenere la leadership nel caso di un futuro governo. Al tempo stesso EPSO è escluso di poter creare una maggioranza anche con la presenza di Podemos, perché il partito di Pablo Iglesias appoggia il referendum sull'indipendenza della Catalogna. In questo quadro il risultato per la Spagna è l'unpass.